Aida Yespica ha lasciato Matteo Ferrari. La showgirl venezolana, il calciatore ex della Roma e del Genoa, trasferitosi recentemente in Turchia nella squadra di Istanbul del Besiktas, ha dichiarato che la relazione con Ferrari è terminata e una delle cause scatenanti, la crisi, è stata proprio la decisione del calciatore di trasferirsi in Turchia. Il Besiktas gli ha proposto di sottoscrivere un contratto quadrinale in cambio di 2,5 milioni di Euro netti a stagione. In un primo tempo sembrava che Aida Yespica seguisse Ferrari per partecipare ad alcune trasmissioni della TV turca. Invece, stando alle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl al settimanale di Gossip Super Ginko, con Matteo non c'è più una storia. È tutto finito.